YOLANDA SWITZ Ossia magliette, penne, zaini, sacche, mystery box Tutti le cose per fare gli slime, ossia le colle, gli addensanti Palline, ci sono nuove palline, ossia le palline unicorno sono ritornate Quindi ragazzi vi consiglio di andare a dare un'occhiata al mio sito Che è sempre www.yolandaswitz.it E solo sul mio sito trovate le mie cose originali Arriveranno nei prossimi giorni o nelle prossime settimane Nuove cose, quindi anche delle novità Nuove magliette con nuovi disegni e altre novità che poi vi dirò Ma nel frattempo vi mostro gli slime Allora ci sono 6 tipologie di slime, anzi facciamo 7 tipologie di slime In questo nuovo restock Allora vi mostro il primo slime Vi zoom un pochettino così vi faccio vedere lo slime vero e proprio Allora lo slime, il primo che vi voglio mostrare è questo Ed è lo slime dedicato a Lilo e Stitch Perché chi mi conosce sa che io amo questo cartone animato della Disney Questa è l'etichetta che sta scritto proprio Lilo e Stitch E lo slime è questo Allora io volevo dirvi una cosa in merito, due paroline in merito al mio shop Voi lo sapete come io lavoro Voi lo sapete che io sono una persona molto seria Voi lo sapete che io cerco di essere sempre il più professionale possibile E ci sono molte persone ragazzi che non aspettano altro che screditarmi Che non aspettano altro che prendere i miei slime E trovare proprio come si suol dire Proprio quella cosa storta, quella cosa negativa Per dire che io faccio schifo Per dire che i miei slime fanno schifo O per dire qualsiasi cosa possibile ed immaginabile Allora se volete sapere quello che penso riguardo questo argomento Che mi sta molto a cuore Andate su Instagram Perché io ho fatto delle storie in evidenza Dove vi parlo proprio di questa cosa Di quello che mi è successo in questi giorni Di alcuni commenti che ho ricevuto sotto al video di una persona Che non faccio nomi Però questa cosa mi ha dato molto 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 fastidio Perché ci sono delle persone che se ne approfittano di questa cosa Che prendono i miei slime, ci fanno la recensione E ci sono persone che lasciano i commenti Ma non sanno che dietro ad uno shop Dietro ad un negozio anche del genere ci sono A parte che non ci sono solo io Io lavoro per fare gli slime, le etichette E tutto il resto, le decorazioni eccetera Ma ci sono anche altre persone che mi aiutano a lavorare Nel mio shop, per fortuna Quindi siamo uno staff che è serio e professionale E noi cerchiamo di essere sempre precisi e corretti Nei confronti degli altri Io gradirei del rispetto nei miei confronti Anche dagli altri Per portare avanti un'azienda Perché la mia è un'azienda Visto che ovviamente ragazzi voi non sapete Ma io pago le tasse Quindi fin quando io pago le tasse è un'azienda Gradirei del rispetto da parte degli altri Questa è una piccola parentesi Che volevo aprire e volevo chiudere Perché le persone purtroppo non si mettono nei miei panni E non sanno cosa vuol dire lavorare Probabilmente seriamente E lavorare dalla mattina alla sera Ad un progetto o ad un'azienda Se volete sapere cosa è successo Seguitemi su Instagram e andate a vedere le mie storie Che ho messo in evidenza sul mio profilo Poi questo è il Lilo Stitch Che no, non puzza di colla ragazzi Ma odora di essenza Dico questo perché chi ha visto le mie storie capisce Allora si sente un botto ragazzi E voi dovete sapere un'altra cosa Che io nei miei slime non uso Né crema, né schiuma da barba Né bassamo Nessun agente esterno Io uso solamente colla, essenza e addensante Basta Perché io non so se voi siete allergici o no a qualcosa Questo qui profuma di ananas, di cocco E di frutto della passione Proprio per ricordare l'hawaiano Cioè proprio per ricordare l'esotico di Lilo e Stitch E lo slime vuole ricordare Stitch e Lilo Che sono blu e rosso che è il suo vestito Con le palline bianche sempre che è il vestito di Lilo Questo anche mi piace un sacco Vabbè io ogni volta che faccio gli slime Dico che mi piacciono un sacco Perché sono i miei preferiti Ma voi lo sapete Ho voluto fare un attimo Una parentesi diversa Perché io ci tengo Al mio lavoro Come una persona che tiene al proprio lavoro Anche esternamente a internet È la stessa cosa ragazzi E questo vi volevo dire Poi altro slime che mi piace dire tantissimo E dire poco Soprattutto l'etichetta È questo qua Quello Sugar Donuts Guardate Queste etichette le faccio io Proprio da zero Questo qui profuma di dolce in realtà Profuma di Mi pare di cotton candy Proprio di sweet Di dolce Ed è fatto così È rosa Sotto ci sono tutti i zuccherini E dentro ad ogni slime Ci sarà una ciambellina E ho altro Non lo so perché non ne ho tante Di ciambelline Mi pare ne ho 10-15 E queste ne sono di più E penso che metterò all'interno Di ogni vasettino Non solo la ciambellina Ma se trovate anche altro È perché ho finito le ciambelline Comunque Ciambellina all'interno Dello Sugar Donuts Che mi piace veramente tantissimo E questo profuma Anche questo qui ragazzi Se sentite Odore sono sempre E solo le essenze Mai balsamo Mai bagno struma Mai niente di niente Io vi volevo avvisare Ve lo volevo dire Perché io ci tengo a questa cosa Ok Di ogni slime C'è sempre Il barattolo grande Il barattolo piccolo Quindi 4Z e 8Z Ok Poi c'è l'altro slime Che è questo qua Che invece Troverete solamente In questo formato Ossia il formato piccolino Da 4Z Questo qui è lo Sherry Bomb Mi piace un sacco l'etichetta Vedete quanto è carina Proprio Cherry Bomb Con le ciliegie Che esplodono Questo qui Profuma di ciliegia Ha un lieve sentore Perché Perché voi Come potete sapere Lo slime trasparente Non viene molto bene Se si mette l'essenza Quindi ho voluto Far profumare poco 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 Lo slime di ciliegia Ma la particolarità Di questo slime A parte avere le fishbowl Avere questi che sembrano Tipo ghiaccetti All'interno È la ciliegia Che sembra vera È molto molto clear Non so se si vede Ma allo stesso tempo È perlato Cioè Spero che si noti qualcosa È clear Perlato Allo stesso tempo E questo qua mi piace Da impazzire raga È bellissimo Allora io vi dico Che in ogni bustina In allegato Trovate sempre Il mio addensante Quindi l'acido borico Da sciogliere in acqua E sotto questi qua piccoli Trovate le avvertenze Scritte sotto Scritte sotto Ai barattolini Anche Quindi se avete difficoltà Nello sciogliere O nell'aggiustare uno slime Perché dovete sapere Che adesso andiamo incontro All'estate Ci sono gli sbalzi climatici Quindi può succedere Che lo slime O si scioglie O si indurisce In qualsiasi modo Io non so più Come comportarmi ragazzi Perché Li faccio un po' più duri Perché a me vanno bene E a voi si sciolgono Li faccio un po' più morbidi E arrivano sciolti Io non so più davvero Come comportarmi Comunque se magari Arrivano un po' più appiccicosi Io in allegato Do una bustina Di addensante Poi l'avete già visto Ed è questo qua Il Harry Potter Butterbeer Che l'avete già visto In realtà nel restock Quello là Del Comic Con Ma La vedete Che sono talmente In tantissimi Che ho detto Vabbè lo rifaccio Poi Un altro slime A parte Il birthday cake Che oramai Lo sapete Ma ve lo faccio vedere Anche grande Ma oramai lo sapete Che io lo faccio sempre Quindi best seller E questo qua Unicorn Pastel cake Ed è questo Giallo Cioè sotto Cioè sotto ci sarà Cioè sopra Ci sarà Nel senso Io quando faccio la foto Lo metto sopra Ma purtroppo Siccome lo charm È pesante Rispetto allo slime Questo Sprofonda sotto E quindi va a finire sotto Se voi Inizialmente Aprite No no Dov'è lo charm Lo charm sta sotto Quindi se voi Cacciate lo slime E lo toccate Lo maneggiate Vedete che All'interno Ci sarà il pupazzetto Quindi cercatelo ragazzi Comunque Profuma di torta Infatti Come questo qua Profuma di Burro e torta Più che altro Di torta alla vaniglia E Queste palline qua Pastellose unicornose Che trovate anche Sopra al mio sito E ci sarà l'unicorno Che però Vi ricordo Che sarà Sprofondato sotto Sicuramente Questo qua sicuramente È uno tra i miei preferiti Poi Grande novità Che È piaciuta veramente A A tutti Praticamente Ed è questa qua È la slime palette La Yolanda Swiss slime palette Guardate Quanto è Cute Quanto è carina Allora All'interno Ci saranno Questi tre slime Ossia Birdie cake Strawberry gelato E Unicorn pastel Anche questo qui Fatto però Diversamente Allora Vedete Ve lo faccio vedere Anche sotto Sono bianco Azzurro E rosa Questo qui È uno snow slime Bellissimo E in ogni Strawberry Ci sarà Uno charm Con tutti gli sprinkles Vedete questo qui Quanto è bello Ragazzi Questa palette Io la amo La amo Ci sono pochi pezzi Purtroppo Perché Sono curiosa Di vedere Come va Devo vedere Prima come va Poi Se vedo che Va ruba E vi piace Allora ne prenderò Tanti altri Ma se vedo che Non mi piace Allora Non la farò Ma in questo restock Vi volevo In questo restock Barra Rifornimento Perché molti Non sanno cosa Vuol dire Le stock Ci sarà Anche il mio Slime kit Il mio slime kit Che avete trovato Tipo come nel pasqualone Perché adesso Andiamo incontro Al caldo E preferisco Comunque Darvi uno Slime kit In modo che Voi vi facciate Lo slime Da soli Questo è tutto Questi sono gli slime Che troverete Nel mio shop Nel rifornimento Di oggi Alle ore 19 Sul mio sito Che è www.jolandasweeds.it Ve lo ricordo Andateci a dare un'occhiata Ci sono tante tante cose Le mie magliette Il mio zain Tutte le cose Anche le felpe Che sono ora scontate Vi consiglio Le mystery box Con le felpe Che adesso sono scontate Ci sono le colle Di tutto e di più Io vi mando un bacio Spero che questo video Vi sia piaciuto Un abbraccio forte E noi come sempre Ci vediamo domani Alle 14.30 Con un nuovissimo video Bye